Signore e signore, vengano, vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica. Dieci lottatori e un solo vincitore. Affilate le note, la Top Ten sta per iniziare su CineFan 100.7. Ne rimarrà uno solo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Eccoci pronti con la Top Ten numero 10 per Ernia con il brano superclassico. Tiziano Ferro lo troviamo alla posizione numero 9 con E ti vengo a cercare. Numero 8 per Emma con il brano Latina. Posizione numero 7 per il Tiro Mancino con Finché ti va. Numero 6, Carl Brevi il brano Parli Parli. E' tardi, tardi, tardi per ricominciare. Parli, parli e parli alla corretta in fretta. Numero 5 per Luciano Ligabue con La ragazza dei tuoi sogni. La ragazza dei tuoi sogni, quando è giù tu riesci sempre a farla. Posizione numero 4 per Tommaso Paradiso con Ricordami. Facciami, facciamoci, ricordami. Saliamo sul podio numero 3 per Levante con Vertigine. Posizione numero 2 per Fedez con Bella Storia. Ed arriviamo alla prima posizione con Ine Gramaro. Il brano è Contatto. Sono loro i numeri 1. Ho cercato il contatto per sfiorarti ogni tanto per capire che in fondo nel mondo non sono sempre così solo.